Al di là delle scelte dell'UNESCO, i problemi che la stessa UNESCO in parte aveva denunciato di Venezia sulla gestione del turismo sono reali e sono sotto gli occhi di tutti, quindi io mi focalizzerei su come risolvere questi problemi e purtroppo su questo, sulle azioni della Giunta, noi siamo molto critici a partire dall'ultima votazione che abbiamo avuto in Consiglio Comunale sul cosiddetto ticket d'ingresso. La scelta dell'UNESCO di rimandare al 2025 il dossier Venezia con relativo dibattito sull'ingresso nella lista nera dei siti a rischio ricalca un copione che si ripete ogni due anni dal 2016 e che, è opinione delle opposizioni in Consiglio Comunale, non cambia di una virgola la situazione della città. Una scelta che non ha voluto tener conto delle tante grida di dolore che salivano dalla città, che salivano da donne e uomini di tutto il mondo che venuti in città hanno potuto vedere in quali condizioni verse la nostra povera Venezia. Vediamo come i canali sono congestionati da una miriade di imbarcazioni. Non c'è stato seguito ad alcuna azione che limitasse le affittanze turistiche e quello che è il contributo ad accesso, ricordiamolo, è solo a carattere sperimentale. Venezia ha un problema enorme a causa del turismo di massa. Non si sta facendo nulla per gestirlo, certo non si sta facendo nulla con il provvedimento della tassa di ingresso e la definizione dell'UNESCO lascia perplessi perché fa capire che l'UNESCO probabilmente non ha capito la portata del problema. Le conseguenze del turismo di massa non sono solo calli e canali intasati, ma si riversano anche su lavoro e risidenzialità, in un mese tra l'altro in cui i posti letto turistici hanno superato i residenti. Come CGL non abbiamo mai pensato che l'indicazione UNESCO risolvesse i problemi della città. Problemi che rimangono tutti sul tappeto, dal lavoro alla casa, per i residenti o per i giovani a cui si offrono solo lavori precari, al fatto che viene incentivata solo la monocultura turistica, perché se non vogliamo che i giovani se ne vadano da questo territorio e si creino reali opportunità, servono scelte diverse, diverse da quelle prese sino ad oggi.